Dopo la conferenza che Mauro Biglino ha tenuto al Salone del Libro di Torino con Di Freddi, sono state diffuse da Mauro delle immagini tratte dall'Antico Egito, collocate nel Tempio di Amun a Luxor e che raffiguravano un'immagine di un geroglifico in una posizione del tutto peculiare che è stato interpretato da Mauro come la possibilità che fosse uno spermatozoo. In realtà questo dibattito ha coinvolto molti egittologi ed egittofili che hanno dato vita a una serie di approfondimenti personali con dei post sui siti di Mauro Biglino cercando di dare una loro interpretazione, una loro spiegazione dissentendo su quello che era la considerazione e la teoria di Mauro. Ne è nata una serie di informazioni in cui c'è stata una netta divisione tra gli egittologi e gli egittofili e invece gli altri che egittologi ed egittofili non sono, sull'attribuzione e sull'interpretazione di questa immagine. In uno di questi post sono stato tirato in ballo anch'io in quanto uno dei partecipanti a questo forum ha chiesto il mio ben poco autorevole parere in materia e allora sollecitato da questa possibilità di approfondire ho deciso di parlare anch'io sull'argomento cercando di portare un po' di luce su una situazione che come è stata descritta e come si presenta realmente è parecchio confusa e si presta a delle possibilità interpretative decisamente impensate. Ed è quello che andremo a vedere in questa serie di approfondimenti che ho fatto cercando di avere, e questo me ne scuso con gli spettatori, un approccio simile a quello che gli egittologi hanno usato con Mauro, approfondendo alcune valutazioni che sono state fatte con la stessa precisione, minuziosità e ricca di dettagli che hanno fornito gli egittologi parlando di questi argomenti. L'immagine che vedete di questo signore un po' paccioso con gli occhiali in un'immagine dei primi anni del 1930 è un egittologo che ha ricevuto uno strano e direi paradossale atteggiamento di critica molto astiosa, molto rancorosa da parte di tutta la classe egittologica. E questo, quando una quindicina di anni fa mi sono avvicinato come davvero dilettante da egittofilo a parlare e diciamo ad approfondire certe tematiche egittologiche, sono rimasto stupito di come il lavoro di questo egittologo inglese sia stato assolutamente misconosciuto e rifiutato dalla maggior parte della classe egittologica attuale. Le motivazioni sembra che risiedessero in un suo modo a volte di interpretare certe frasi geroglifiche non comprendendo il significato di parole singole, oppure quando non era in possesso di un'intera traduzione, perché magari era brasa dal tempo, ma era del tutto analoga ad un'altra composizione che aveva lo stesso inizio e la stessa fine, veniva accusato di aver riproposto lo stesso testo come se ce l'avesse in realtà completo. A questo si aggiunge che in una prima fase di studio, perché questo egittologo ha scritto qualcosa come 42 libri spaziando in tutti i campi dell'archeologia dell'epoca e in una prima fase riteneva che ci potesse essere una correlazione tra gli argomenti della religione egizia con quello di un possibile eredità del cristianesimo, scontrandosi in questo caso con l'opinione dilagante degli egittologi dell'epoca capitanate dal grande Flanders-Pitri. Successivamente però, con l'approfondimento di molte indagini e con la maggiore esperienza maturata negli anni di ricerca, è venuto fuori che ha abbiurato a questa condizione ritenendo addirittura che le radici dei culti egizi risiedessero nell'Africa nera, situazione che all'epoca evidentemente aveva destato un po' di scalpore, ma che un atteggiamento revisionista molto tardo negli ultimi 30-40 anni ha riportato alla luce in maniera completa. Ebbene, questo egittologo nasce principalmente come assiriologo e successivamente entra nel British Museum e viene dato a lui la possibilità di studiare le scelte della letteratura semitica, infatti diciamo che aveva un'ottima conoscenza sia del cuneiforme, del sumero, dell'arabo, del siriaco, successivamente ha imparato il copto, ha imparato l'etiopico e chiaramente da una certa epoca in poi, avendo avuto come maestri Samuel Birch e Pegel Renouf, figure di spicco dell'egitologia, ha approfondito i suoi studi in campo egitologico. Quindi diciamo una figura di tutto rilievo, però come è successo nel corso della storia? Noi sappiamo che per esempio gli antichi egizi avevano dato l'adamnazio memorie ad alcuni membri delle certe famiglie, è il caso tipico di Tutmosi III che dà un'adamnazio memorie alla regina Apsesciut, sua matrigne e sua tutrice, facendola scomparire dalla refigurazione su molti templi. E così è successo in maniera molto più grave e aggressiva nei confronti di Akenaton che da Oremebbe in poi, il faraone scismatico, è stato cancellato dai libri di storia dell'antico Egitto e siamo riusciti a sapere della sua esistenza solo in tempi molto tardini. Ebbene, l'egitologia ufficiale, usando un linguaggio di un neologismo attuale, è stato bannato da qualsiasi tipo di responsabilità in una maniera che già, ripeto, mi sembra un po' aggressiva, ma alcuni egitologi attuali si sono lasciati andare ad affermazioni ancora molto più aggressive. Il prototipo di un certo tipo di atteggiamento molto aggressivo nei confronti di questo egittologo è Stuart Tyson Smith della Santa Barbara University della California, che è stato responsabile di tutta la componente lessicale egitologica di film importanti quali Stargate e Il ciclo della mumia. Ebbene, questo egittologo ha detto espressamente nel suo sito web che, per il bene dell'egitologia, quell'altro egittologo inglese sarebbe bene che non fosse mai esistito, contribuendo a rafforzare l'idea che a questa persona deve essere stata data la damrazio memorie. Il personaggio del film Stargate, corrispondente all'egittologo giovane e molto Iuppies in un certo senso, che è Daniel Jackson, interpretato dall'attore James Spader, corregge l'iscrizione che è presente sul coperchio dello Stargate, che probabilmente lo stesso egittologo della Santa Barbara University ha creato, e si permette di fare questa affermazione, come possiamo vedere in inglese, who the hell translated this, e quasi con un certo tonno di spocchiosa superiorità dice chi diavolo ha tradotto questo e le battute successive del film dicono, sempre ad opera di Daniel Jackson, avete per caso forse usato il vocabolario dell'egittologo inglese che abbiamo visto in prima e con un atteggiamento altrettanto spocchioso dice non capisco perché lo continuino a stampare ancora, quasi mendando un messaggio in bottiglia subliminale anche alla popolazione che quell'egittologo di prima deve essere cancellato dai libri di testo e da qualsiasi valutazione. Questa posizione è ribadita addirittura da un egittofila, che quindi non ha il titolo di egittologico per diciamo dire certe affermazioni, che sostiene che pubblicando la foto dell'egittologo precedente, questa frase ancora con più livore e con più astio perché dice se voi avete usato questo egittologo di cui ho cancellato il nome intenzionalmente come riferimento bibliografico il vostro argomento non è valido, vale a dire che è inattendibile. Questa immagine che è tratta da un graffito che mostra la figura di Tutmosi anche se solo chiaramente per una piccola parte perché l'immagine è centrata sulla figura del dio Minna di cui possiamo vedere l'immagine tipica che ce lo raffigura con il braccio alzato il sinistro, il destro scusate, e il fallo eretto. Come possiamo vedere tutte le raffigurazioni che andremo ad esaminare dalla punta del fallo eretto di queste raffigurazioni del dio Minna non esce mai nulla e questo è un qualche cosa di significativo. Ma molto significativo che ritorna come un momento molto tipico di certe valutazioni è questa frase che ho etichettato all'interno del riquadro rosso che in questo caso è relativo ad alcune funzioni del dio Minna ma in altri casi è strettamente abbinato anche al faraone stesso. Noi vediamo una serie di geroglifici di cui vediamo la traduzione su in altro in giallo, vediamo questo simbolo che si pronuncia Sa, questa è la chiave della lunga vita, Lank, questo ha il significato di dietro, Ha, F è il pronome personale, questo è Neb che vuol dire signore, poi viene usato il geroglifico di Ra e il nome riferito a Mi. Quindi Sa, Anc, Af, Neb, Mi, Ra che viene tradotto come dagli egittologi loro stessi, la protezione magica, esiste anche la variante il fluido della lunga vita dietro di lui, lo rende signore come il dio Ra. Ed è significativo ed è molto importante che questo tipo di frase, molto rilevante per quel discorso che ha fatto Mauro riferito a un approccio medico di certe valutazioni che devono essere certificate e imbricate molto strettamente con le conoscenze egittologiche abbinate alla medicina, compare sempre nella parte posteriore della figura sia esso un dio sia esso il faraone. Abbiamo visto questo emblema che è l'emblema che abbiamo tradotto come la protezione e possiamo vedere che cosa invece gli egittologi, che cosa appunto gli egittologi determinavano per questo tipo di simbolo. Quest'immagine che è proveniente dalla fonte di riferimento per gli egittologi, sia generali sia quelli che hanno commentato sul forum di Mauro Biglido il discorso delle immagini provenienti dal santuario di Luxor, ci fanno vedere quei simboli precedenti. In questo caso vediamo questo simbolo che in taluna circostanza, e lo vedremo successivamente nelle immagini che faremo vedere riferite al Tempio di Luxor, ha questo aspetto. Questa è una collocazione che ci fa vedere una corda piegata che serve come pastoia per il bestiame e in questo caso una tettoia di papiro per pastori arrotolata. Quindi se vediamo questa tipologia di immagine è abbinata al concetto di protezione ed è molto antico perché troviamo un riferimento ai testi delle piramidi, in questo caso la formula 1470, dove ha il valore sempre di protezione ed era la prima parola che avevamo visto citata in quella frase etichettata in rosso. Sempre dal vocabolario, questa volta non dall'indice dei simboli geroglifici del Gardiner, ripeto testo di riferimento per gli egittologi, vediamo i due simboli di cui uno è considerato variante dell'altro, appartengono a questa categoria, che ci dicono protezione specialmente magica. Quindi era un qualche cosa che dava una manifestazione non completamente spiegabile in termini razionali, ma con un qualche cosa che diciamo rasentava qualcosa di non propriamente razionale o non propriamente umano. Ma se vediamo il lavoro fatto dall'egittologo bannato, dall'egittologo innominabile o desecrabile, che quindi viene scartato dalla quasi totalità, potrei dire completa totalità dell'egittologia, noi vediamo gli stessi simboli interpretati come variante e il significato che dice protezione, un oggetto che fornisce o arrecca protezione, amuleto talismano. E noi vediamo che l'abbinamento dei due simboli, proprio quelli presenti nel riquadro rosso dietro la figura del dio Ammin, vediamo che viene interpretato questo n in realtà si riferisce a questo, è come se in questo caso non ci fosse riferito a questo. Ed ecco, vediamo che l'egittologo innominabile o desecrabile scrive una possibile sua interpretazione, dice il fluido magico della vita, quindi la chiave della lunga vita abbinato a qualcosa di protezione di aspetto magico. Questa è un'altra immagine che ci propone, in cui vediamo la regina Azefshut, ed ecco di nuovo un'altra raffigurazione del dio Ammin con il fallo eretto da cui non esce niente, e vediamo di nuovo nel riquadro rosso la locuzione di prima, sa la protezione e il fluido, anche della lunga vita, abbinato a questo che vuol dire salute, pieno benessere delle proprie capacità psicofisiche dietro di lui, sempre appunto nella parte posteriore, come il dio Ra. Quindi vediamo una sostanziale ripresa, cioè mano a mano che si snodavano le dinastie dei faraoni e che veniva raffigurata una certa divinità, c'era sempre una netta correlazione con questa frase, permanentemente situata nella parte posteriore del corpo del dio. Questa è una delle immagini, non proprio quella che ha fatto vedere Mauro Biglino nelle sue ultime relazioni, ma è un'immagine parallela, perché quella che lui a farà vedere, e che vedremo noi successivamente, è in questo pannello, noi stiamo esaminando quella subito a destra. Questo è il dio Amun, che impugna uno scettro. Questo qui, che è Alessandro Magno, che in una certa epoca ha fatto visita al tempio di Luxor e ha reso omaggio al dio Amun, che effettua una abluzione lustrale attraverso questo vasetto da cui scende questa formazione ad acqua con una linea zigrinata, e vediamo questo tipo di geroglifico non accompagnato per vicinanza con l'altra immagine del fallo eretto del dio Amun, che ha determinato il vespaio di polemiche di reattività degli egitologi in maniera così spiccata. Noi vediamo questo che ha l'aspetto di un corno e vedremo poi cosa corrisponde, questo è il vasetto da cui spunta l'acqua. Non c'è altro tipo di immagine, ma vediamo di nuovo la stessa frase, che questa volta non è più solo correlata al dio, ma viene proiettata anche su Alessandro stesso, ed è sistemata non più nella parte inferiore, ma questo simbolo, il simbolo di sai, il simbolo di proiezione, è nella parte posteriore dietro la testa. Potremmo ipotizzare, è un caso o c'è una motivazione profonda per cui questa protezione della lunga vita è abbinato a una parte posteriore del cervello di Alessandro Magno. E qui di nuovo troviamo la stessa espressione. Sa, Anc, Af, Neb, Mirà. Il fluido, la protezione della lunga vita dietro di lui, lo rende signore come il dio Ra. Questa invece è la prima immagine che è stata fatta vedere da Mauro Viglino nelle sue relazioni. Però notiamo qualcosa di differente, perché gli egitologi non ce lo dicono, ma questa è un'immagine, come si può vedere dalla qualità non eccezionale della fotografia, è un'immagine scattata molto tempo fa, potremmo dire tra gli anni 30 e 40, visto alcuni aspetti caratteristici della foto in bianco e nero. Esaminiamo i geroglifici presenti che sono stati molto ben analizzati da un egittofilo che questa volta ha fatto un buonissimo lavoro di interpretazione di questa iscrizione, perché questa è la frase dove c'è il vasetto che fa diciamo colare acqua, questo è il geroglifico della gamba e questo è il suffisso causativo, perché questo può essere sia un nome ma anche un verbo, quindi purificare. La versione del termine S vuol dire causare la purificazione, il costato ha valore della preposizione M che significa sia dentro, in, sia mediante, per mezzo di. Qui abbiamo poi il geroglifico dell'incensiere con i granuli di incenso e una anfora da cui sgorga acqua lustrale, interpretati tutti come determinativi, quindi effettuare o causare una purificazione mediante incenso e acqua. Ma concentriamoci sul fallo eretto del dio Min, a cui sempre Alessandro Magno depone questa offerta di acqua lustrale. Noi vediamo qualcosa che nell'immagine che ci ha fatto vedere Mauro recente non compare, perché vediamo questo simbolo di questo cucchiaio rituale dove c'è una testa del Diorus che contiene un'immagine di un vasetto con dei granuli e uno sbuffetto che arriva in questo punto. È questo stesso tipo di immagine, quindi questa immagine si riferisce a un bruciatore d'incenso, un incensiere. Se noi vediamo questa immagine invece, questa è una erosione da usura del tempo che ha determinato questo andamento curvilineo che parte combinazione da questo punto del fallo eretto del dio Min e segue questo andamento fino ad arrivare in questo punto. Questo, ripeto, è l'immagine originale, fotografia di vecchio stampo degli anni 30-40 della stessa tipologia d'immagine. Questa è l'immagine di prima del pannello a fianco dove vediamo di nuovo l'immagine del corno dove c'è la mano del dio non in presenza del fallo eretto e questa immagine del vasetto da cui sgorga acqua. Questo è sempre Alessandro Magno di nuovo con la stessa frase di prima che a quel punto lì abbiamo ormai imparato perché è sempre SA, ANC, A, F, NEB, MIRA. Noi adesso ci spostiamo dall'altro lato e vediamo l'immagine che avevamo visto in precedenza. Questa immagine che noi vediamo in questo caso testimonia un'azione che farebbe sembrare che qualche cosa fuoriesce o da questo vasetto a salire in direzione del fallo eretto del dio Min. In realtà, se noi vediamo questo è opera di una probabile azione di vandalismo perché come era testimoniato da un sito web che è ancientegiptonline.co.uk alla voce dio Min ci viene riferito che in conseguenza della posizione del fallo eretto e quindi di una possibile attività di scandalo o di imbarazzo degli spettatori che venivano a vedere queste immagini c'è stata un'opera di vandalismo che ha sfruttato negativamente questo assetto che è stato effettuato o in epoca cristiana o nel diciannovesimo o nel ventesimo secolo. In realtà secondo Mauro ci potrebbe essere una correlazione dell'uscita dello sperma potenziale vicino dentro questo vasetto. Questo qui invece lo stesso Mauro dice, come opportunamente è stato interpretato dagli egitologi, che questo è un vasetto con un incensiere che però è stato intenzionalmente alterato per far quasi sembrare che uscisse qualche cosa dal pene del dio Min, anche se in realtà Mauro stesso dice che potrebbe essere che invece è una fumigazione di incenso bruciato che sale fino. Ma il problema è che in realtà si tratta di un atto vandalico. Qui vediamo l'andamento col decorso curvilinio e questo è l'atto vandalico che ha provocato questo. Questo invece è un dettaglio della seconda immagine che ha fatto vedere Mauro Viglino riferito sempre alla raffigurazione del Tempio di Luxor, sempre con Alessandro Magno che vediamo in questa posizione, che effettua un'offerta rituale che poi andremo a investigare, è di nuovo ingrandito nel rettangolo rosso, di nuovo la stessa espressione che non ripeto più perché è sempre la stessa. Questa tipologia di immagine rappresenta due righe di geroglifici che adesso vi facciamo vedere nella loro interezza fin dove arrivano, separate da questa sbarretta verticale. La sbarretta verticale serve dalla parte di lettore del, diciamo, egizio e di riflesso anche noi che ci avviciniamo, a differenziare un testo geroglifico sul lato destro che è riferito al dio Min e un testo geroglifico sul lato sinistro che è riferito dalla posizione dei geroglifici ad Alessandro Magno. Noi vediamo qui una eventualità duplice. Prima di tutto noi possiamo vedere in trasparenza un ulteriore ennesimo atto vandalico in cui c'è, e qui l'oltratteggio perché magari non si può vedere alla perfezione, dalla punta del fallo di Bin fuoriesce, presumibilmente fatto con una punta o con un punteruolo o con una chiave, una doppia linea che sta a significare una parziale emissione di sperma dal fallo del dio Min, ma non è una cosa egizia perché troppo esile, la si ripeto, la si vede appena appena in trasparenza con l'immagine che invece degli altri geroglifici è molto più netta perché compare in rilievo. Quest'immagine quindi che si riferisce per la posizione separata da questa linea al faraone, in questo caso ad Alessandro Magno, mostra quest'immagine sempre con questo elemento, il vasetto da cui fa scendere acqua e l'immagine del corno. Il problema tecnico che ha fatto nascere un vespaio di interpretazioni è che questo dipinto, questa raffigurazione, non è fatta in maniera del tutto precisa, oltre a contenere, e lo vedremo poi in questa fase commentando, degli errori di impaginazione grafica dei geroglifici già dallo scriba o dal pittore egizio che ha lavorato a quest'immagine, che commette degli errori di cui gli egitologi non ci dicono nulla, che nella impaginazione grafica di questa frase usa un tipo di costruzione che nel Medio Regno e nel Nuovo Regno sarebbe stata bannata, sarebbe stata cancellata e il sacerdote che fosse venuto avrebbe visto questo tipo di errore, avrebbe detto no caro mio, signor scriva, tu questa la rifai e me la metti correttamente, ma adesso la vedremo. Un'altra cosa è che ci dovrebbe essere un minimo di separazione tra il geroglifico del corno con il vasetto che butta acqua dal pene del dio Min. Questo per evitare qualsiasi tipo di equivoco, ma questo per incuria o imprecisione dello scriva che ha fatto forse un po' frettolosamente questa composizione, non l'ha fatto. E allora che cosa vede uno all'atto che magari è molto attento a notevoli conoscenze mediche, fine osservatore, dice questa cosa sembra che esca dal fallo eretto del dio Min. Ma in realtà, qui ripeto, se l'immagine fosse stata fatta in maniera corretta, questo, il corno col vasetto che versa acqua dovrebbe essere separato. In realtà non è così e qui si apre il vespaio di polemiche. Perché si apre il vespaio di polemiche perché io, che non so a livello di lingua geroglifica, ma sono fine osservatore e conosco la natura umana, sono nettamente portato a pensare che questo è liquido spermatico che esce dal fallo. In realtà, come abbiamo visto nell'immagine precedente, questo è di nuovo il corno con il vasetto che fa vedere acqua. Ora, se noi vediamo, questa cosa è stato molto interesse da parte di due o tre egittologi con l'appoggio, ripeto, di degli egittofili che sono intervenuti nel sito di condivisione, che hanno elaborato tutto questo tipo di immagine, hanno fatto la traduzione di queste due frasi per meglio focalizzare, dall'altro della loro autorevolezza e del loro titolo, la possibile traduzione di queste due frasi. Ma non solo, perché c'è stato anche un altro egittologo che con una pazienza sopraffina ha riprodotto tutta la frase, con tutto il pannello di geroglifici, l'ha traslitterata e l'ha tradotta. Vediamo che ci sono delle valutazioni da fare su questi aspetti lessicali e letterali della traduzione. Questo è il lavoro Certosino, che ha fatto uno degli due egittologi, barra tre egittologi, che hanno commentato le affermazioni di Mauro Miglino, che ha riprodotto a mano completamente tutta l'immagine, le ha raffigurate i geroglifici con colori diversi e ha raffigurato tutto quanto e ha tradotto tutto. Allora, l'unica cosa che, come vediamo in questo punto, non ha messo, probabilmente dico in tutta buona fede, perché pensiamo sempre positivo, si è dimenticato il simbolo di Sa, che è presente in tutte le serie di raffigurazioni di Alessandro Magno, che fa omaggio o ad Amun Ra o al Dio Min. E l'unica cosa che non ha tradotto, qui dico probabilmente in buona fede, cerchiamo di ragionare sempre in termini positivi, anche se è forse in buona fede meno uno, non ha tradotto questa frase. Il famoso Sa, Anc, Af, Neb, Mirà, il fluido, la protezione della lunga vita dietro di lui, lo rende signore come il Dio Ra. Ma se vediamo alcune scelte lessicali di traduzioni che sono state fatte, vediamo come a volte un tipo di approccio egitologico recente che abbiura certe conoscenze, certe contestualizzazioni attuali rispetto al passato, porta a dare delle traduzioni impercettibilmente diverse da quello che forse era l'intento degli egizi che hanno scritto questo tipo di immagini. Questa fa parte, questa colonna, ripeto, tutto il lavoro tradotto da questo egittologo che ha traslitterato questa immagine, questa, questa qui non l'ha tradotta, né l'ha traslitterata, questo e questo in maniera perfetta. L'unica cosa, ripeto, si è dimenticato di mettere questo simbolo di Sa, ma gliela possiamo dare come scusante. Allora, traduce questo titolo, quindi tutto questo riguarda la titolatura di Alessandro Magno e viene tradotto come il Re Duale e francamente sono rimasto un po' sorpreso perché nell'ambito egitologico il termine duale è una definizione lessicale grammatica che identifica una delle tipologie del genere plurale. Abbiamo un singolare, un duale e un plurale. Duale quando sono due, plurale quando sono tre o più. Ma il cosiddetto concetto del giunco e dell'ape da generazioni egittologiche si intende il nesut bt, cioè Re dell'Alto e Basso Egitto. Questo è quello che si è tradotto da, diciamo, 70-80 anni a questa parte. Se noi invece ci spostiamo in questo punto, sempre riferito alla titolatura di Alessandro Magno, noi vediamo che è stata fatta questa traduzione. Amun Ra Meri, cioè amato, si riferisce sempre ad Alessandro Magno, amato da Amun Ra, e c'è questa espressione che sarebbe il geroglifico del naso, kent, e questo che è ipet, e f che si riferisce a lui, cioè riferito al dio. Quindi questo viene trasliterato come kent ipetef. Ma la stessa tipologia di frase, in questo caso che rientra nei titoli di Alessandro Magno, compare in questo livello come titoli riferiti al dio min. E vediamo di nuovo la stessa espressione, kent ipetef, e adesso la vedremo, come è stata tradotta e come forse sarebbe meglio tradurla. Perché qui vediamo, persone che magari non conoscono bene questo assetto, ma sono fini osservatori, noi vediamo che questo simbolo, che io ho tradotto come kent, è apparentemente diverso da questo simbolo che io ho ritradotto come kent. Ebbene, l'egittologo, in perfetta linea con l'andamento generale di cosa traduce l'egittologia, traduce questa frase come primo del suo harem, ed è applicata sia a questa parte che a questa parte, nonostante ci sia una differenziazione tra il simbolo del naso dal valore fonetico di kent col simbolo delle anfore riunite tra loro sempre dal valore fonetico di kent. Ma è un caso? Abbiamo detto che viene tradotto come primo del suo harem, quindi questo è primo, questo è harem. Il Gardiner, sempre testo di riferimento per gli egittologi ufficiali, ci dice che il simbolo delle anfore unite tra loro ha la valenza, in questo caso, che è quella forma di preposizione di, in forma appunto di preposizione, davanti a, tra, da, al davanti di, di fronte a. E allora ci chiediamo, ma se viene tradotto come primo di, come si può correlare al concetto di davanti a? In effetti, per uno delle valorizzazioni dei titoli del dio Osiride, che viene chiamato i colui che è davanti agli occidentali, intesi come le anime dei morti, esiste la possibilità di traduzione indotta, per cui se davanti agli occidentali, quindi kent a menti u al plurale, cioè il mondo dei morti, è al loro capo e quindi è il primo degli occidentali essendo lui un dio morto. Quindi a questo punto questo spiegherebbe parzialmente perché il termine, la preposizione kent, viene tradotta come primo. Se noi guardiamo quello che ci dice l'egittologo esecrabile, dinominabile, sempre riferito al termine kent, che questa volta vediamo scritto nella forma presente, vediamo di nuovo di fronte, nella parte anteriore, abbinato anche a un concetto di tempo. E questa cosa ci ricorda per esempio la preposizione inglese before, che vuol dire essere davanti a, ma di riflesso è anche essere prima di, e in senso ebraico, e qui Mauro lo proverebbe sicuramente, applicata alla preposizione ebraica kedem, che vuol dire appunto ciò che sta davanti, ma anche ciò che è prima. Quindi vediamo che anche tra l'altro la preposizione ebraica kedem ha lontane assonanze con la preposizione egizia kent. Abbiamo detto che l'egittologia ufficiale attribuisce a questo simbolo geroglifico, costruzione a forma di cupola, questo strano simbolo, una variante collegata al termine ipet che vuol dire harem. Sempre il Gardiner, non solo nel simbolo geroglifico, ma nell'espressione della parola completa, ipet, ci dice che vuol dire harem, appartamenti privati. Questa non è una cosa da poco, perché se noi vediamo il nome che i greci attribuivano alla capitale, unione sia dei sobborghi attuali di Carnac e di Luxor, e noi ricordiamo che le immagini fatte vedere da Mauro si riferiscono al tempio di Luxor, sta a una valutazione greca, sebai, del termine alliterato dal greco al geroglifico, dove il geroglifico vuol dire ta, che vuol dire terra, e ipet, che vuol dire abitazione palazzo, quindi la terra del palazzo, chiaramente riferito o al palazzo reale o al grande tempio. Quindi noi vediamo, e la variazione sarebbe che la consonante pi, per la lingua greca, è del tutto sovrapponibile alla palatale bi, quindi ecco dove l'origine del termine ta, ipet, la terra del palazzo, corrisponde al termine greco che è stato dato alla città di Tebe, cioè Zebai. Abbiamo visto che il Gardiner era abbastanza sicuro nel dare la definizione di epette come harem, ma l'egittologo innominabile ed esecrabile ci dice qualcosa di più perché abbina questo termine al concetto di casa, abitazione o palazzo. Ma effettivamente qualora compare questo segno che è il simbolo del nesu, del re, effettivamente un'abitazione del re equivale a un harem reale, il luogo dove stava lui, dove stava la moglie principale, dove stavano le concubine o moglie secondarie. E a questo punto verrebbe da pensare che abbinare a un luogo divino, un tempio, una collocazione etimologica con harem è un qualche cosa che stona un po', perché se noi pensiamo che gli egizi, a differenza dei sumero-babilonesi, che ponevano una sacerdotessa sulla cima della zigurat per eventuali ierogamie o per soddisfare il piacere degli annunachi che potevano scendere, l'Egitto è totalmente alieno da questo. Quindi dare una collocazione di harem a quello che è il tempio di Amun-Ra o di, in questo caso, di Min, è secondo me una lieve caduta di tono poco consona alla religiosità che fermeava invece l'ambiente dell'Egitologia. Sarebbe come se, per esempio, trasposto in un'ottica di archeologia medievale, come se noi trovassimo un residuo, diciamo delle rovine di una chiesa paleocristiana del VII-VIII secolo e dicessimo che queste cappellette laterali non sono delle cappellette ad uso rituale, ma sono delle stanze abitative per le concubine del reggente del tempo. Resteremo sicuramente inorriditi e costernati. Ebbene, questa è una situazione del tutto omologa. D'altro canto, lo sempre legittologo esecrabile ed innominabile, ci riferisce che il termine Ipet, con questo simbolo, Shema, identifica il tempio di Luxor, identificato e differenziato da quello di Karnak, chiamato Apet-Urt, cioè Palazzo Grande, con Palazzo Meridionale. E noi ricordiamo che le immagini diffuse con l'immagine di Alessandro Magno e del diomin venivano appunto dal tempio di Luxor. Abbiamo detto in precedenza che nella titolatura di Alessandro Magno c'è il simbolo del naso, valorizzato come Kent. Nella titolatura del dio Min c'è il simbolo di Kent, diciamo valorizzato come anfore. È un caso? Apparentemente per gli egitologi dicono che c'è piena corrispondenza tra uno e l'altro. Però nel mio studio che ho fatto, pubblicato nel libro Stargate, Il cielo degli Egizi, dove vengono fatte un'analisi molto precisa di due gruppi di decani situato nell'emisfero nord e nell'emisfero sud, che recano il nome di Kent, abbinato a una preposizione sopra, sotto e in mezzo. Noi vediamo che nelle tombe faraoniche, quasi come una diretta rivelazione della divinità, troviamo sempre questo simbolo per identificare Kent, cioè una correlazione divina. E non è un caso che il simbolo delle anfore legate tra loro è legato al dio Min. Mentre invece nelle tombe dei dignitari o dei principi che faraoni non erano e che quindi avevano un bagaglio di interfacciamento di conoscenze limitate, il simbolo di Kent era permanentemente sostituito dal simbolo del naso. Quindi è assolutamente in pieno e logico equilibrio che lui, che è un uomo, usi il simbolo per rispetto di Kent come naso tipico della definizione umana versus lui, che è sicuramente un dio e che ha pieno diritto a rappresentare il simbolo di Kent con le anfore legate tra loro. Ma se noi ci rifacciamo adesso alla fatidica frase ed entriamo nel clou di certe valorizzazioni di traduzione, noi vediamo la traduzione che è stata fatta dai due egittologi con l'appoggio di un terzo pienamente suffragate e condivise tra di loro e da un certo pool di egittofili. Questa frase è stata tradotta in un modo completo che adesso andremo a vedere, cioè viene tradotta come il simbolo dell'occhio, che vuol dire fare. Vedremo un po' che la presenza di questo simbolo, di questo emicerchio, che è la lettera T, non sia del tutto chiara, tant'è vero che l'egittologo innominabile propone timidamente una possibile variante lessicale che comunque non cambia la visione generale. C'è poi questo simbolo, che vuol dire, abbiamo visto l'azione di purificazione con il corno molto troppo vicino alla punta del fallo eretto del dio Min, che viene tradotto appunto come purificazione, per cui dicono giustamente gli egittologi fare, adesso vedremo che potrebbe anche non essere proprio fare, una purificazione. Vediamo la parte inferiore, che non si presta al minimo dubbio perché questo è il simbolo della preposizione del genitivo, di, e questo è shema, il paese del sud. Quindi questa frase è lavoro, perché adesso vedremo, o fare una purificazione e questo è del paese del sud. Quindi la frase nei riquadri rossi è giusta, ma il problema nasce su questi pochi simboli geroglifici. Infatti i tre punti interrogativi sono dovuti al fatto che questa frase presenta degli errori da parte dello scriba che li ha tradotti, perché nel Nuovo Regno e nel Medio Regno questa struttura non sarebbe mai comparsa. Si tratta di errori rossi, ma ce n'è ben due e adesso li andremo a individuare. Se noi guardiamo come hanno tradotto gli egittologi questa frase, ripeto, in piena e solidale concordanza e complimentazione reciproca, ci viene detto fare o azione, lavoro di purificazione, questa è la preposizione del costato, che vuol dire mediante, per mezzo di, compaiono cinque barrette verticali, un anatroccolo che viene interpretato in questo modo sia dal Gardiner e ribarito da Carmela Betrò e di nuovo tre sbarrette verticali. L'interpretazione degli egittologi convenzionali è mediante cinque granuli. Uno egittologo aggiunge tra parentesi di inceso, il secondo egittologo lo dice direttamente senza parentesi, quindi mediante cinque granuli. Il problema è, e qui devo fare una breve esemplificazione, per capire dov'è l'errore bisogna che faccia un piccolo excursus parafrasando l'italiano per far capire alle persone che ci ascoltano le strutture concrete della lingua geroglifica applicata alla parola italiana. Prendiamo per esempio la parola remo. La parola remo è composta dalle consonanti R ed M, viene, diciamo se la vorremmo trasporre in geroglifico, sempre chiaramente con la struttura italiana, scriveremo le lettere R e M perché la vocalizzazione come uguale all'ebraico che si scrive da destra verso sinistra senza vocalizzazioni e guarda caso i primissime forme di scrittura geroglifica si scrivevano da destra verso sinistra e la vocalizzazione non è mai comparsa. Quindi scriveremo R ed M, ma R ed M non fa consentire di capire il genere dell'argomento di cui stiamo parlando. E allora si introduce un concetto di spiegazione del campo di azione di dove si svolge l'argomento. Quindi si scrive R e M e siccome parlo di un remo faccio, per ipotesi, il simboletto di una barca. Perché se a R e M io aggiungo un albero, come si ideogramma, R e M abbinato a un albero fa ramo. Se io ci scrivo una penna, R e M abbinato a una penna fa rima. Se io ci scrivo R e M abbinato al simbolo di città, fa Roma. Questi sono i concetti base della lingua geroglifica. Quindi è prima il valore fonetico R ed M, poi viene messo un determinativo di genere che esplica di che cosa stiamo parlando e per ultimo un determinativo di numero, cioè di quanti remi stiamo parlando. Uno, due, genericamente tanti, oppure un numero specifico. Il concetto base che emerge da questa valutazione è che, come possiamo vedere tra poco, il determinativo di numero è l'ultimo che compare in qualsiasi nome. Perché prima ci dovremmo mettere R e M che sta per remo, devo mettere la barca che identifica il genere di che cosa si sta parlando e devo mettere in finale il numero di quell'oggetto, quante volte ne sto parlando. L'egitologo innominabile ci dice che, abbinato al simbolo dell'occhio, che ha il valore di fare, to make direbbero gli inglesi, o to do, in qualsiasi manifestazione è possibile abbinare il simbolo di questo semicerchio che potrebbe corrispondere, ripeto potrebbe, perché non siamo in condizione di dare un parere definitivo, a una sostantivazione del verbo. Quindi questa cosa potrebbe corrispondere, ripeto, potrebbe corrispondere a qualche cosa fatto, lavoro, l'atto di fare, atto, una cosa che deve essere fatta. Ma ripeto, è una possibilità. Se noi lo chiamiamo fare una certa cosa o lavoro per corrispondere a una certa cosa, non è che ci cambia molto. Vediamo il famoso, il famigerato simbolo del vasetto da cui sgorga acqua, tratto dal Gardiner, che è stato proposto anche in alcuni siti di analisi correlate al lavoro fatto da Mauro Viglino, riferito al lavoro proposto da alcuni egittologi. Ebbene, il Gardiner ci deve identificare due simboli. Innanzitutto, nella lista D, al numero 60, identifica il vasetto abbinato alla lettera B, alla gamba. Il vasetto identifica la pronuncia UA, la B viene aggiunta successivamente per identificare puro pulito. Sempre il Gardiner, per dare la valutazione dell'altro simbolo, ci fa andare un po' avanti nei simboli geroglifici, perché dobbiamo andare alla lista numero F, contrassegnata dal numero 17, dove a questo simbolo, che corrisponde a corno, si subentra, si interfaccia il simbolo del vasetto da cui sgorga acqua, e infatti dice combinazione dell'F16 con un vaso come il D60. Questa è la sua forma al plurale, guarda un po', compaiono i tre determinativi al plurale, viene pronunciato abu che vuol dire purificazione. Ma se osserviamo quello che invece ci fornisce come testimonianza all'egittologo innominabile, vediamo che alla lista 22 li troviamo tutti e quattro. Il numero 26 con un andamento dell'ambito zigrinato dell'acqua in forma più piccola, il numero 27 con un andamento maggiore, l'abbinamento col simbolo della gamba e l'abbinamento con il simbolo del corno. Il prete delle libagioni, il sacerdote ha detto alle libagioni, pulito, puro, sacro. Pulito, cerimonialmente puro, sacro. Guarda caso, apparentemente, l'egittologo innominabile sembra dare qualche spiegazione più ampia e più approfondita dell'egittologo canonico. Se guardiamo questa valorizzazione, noi abbiamo cinque sbarrette verticali che identificano il determinativo del numero, ma ne troviamo altre tre che identificano l'altro determinativo specifico. Ma ci manca qualche cosa, perché questo, l'anatroccolo, in pieno accordo con quanto dice sia il Gardiner che Carmela Betrault, è un simbolo letterale, fonetico, che viene fonetizzato come TH lievemente aspirato a. Ma questa frase ci fa capire che c'è un determinativo, apparentemente, seguendo quello che dicono gli egittologi, iniziale di parola. E loro correllano questa cosa che, secondo tutte le regole, farò vedere adesso il Gardiner che ribadisce che i determinativi di numero sono alla fine. Parola, simboli fonetici, determinativo di genere, determinativo di numero. Questo qui è un determinativo di numero posto all'inizio. Questo è il determinativo posto successivamente di numero, sempre riferito all'anatroccolo. Ma l'anatroccolo è un anatroccolo? Perché notare che è stato tradotto da loro, dagli egittologi, come granuli. E allora ci chiediamo, ma manca qualcosa? Perché io vedo un anatroccolo? Mi manca un determinativo di genere per capire che si tratta di granuli, come dicono loro. E vedremo che è vero, ma qui non c'è niente. Quindi, interpretato come hanno correlato gli egittologi, qui abbiamo un doppio determinativo di numero, di cui una che non segue le regole egittologiche canoniche, perché è all'inizio della parola, e l'anatroccolo non ha un determinativo di genere. Quindi ci sono due errori dovuti in parte a una cattiva comprensione del testo dello scriva che l'ha compilato, che viene interpretato in maniera non corretta dagli egittologi. Se guardiamo il testo di riferimento del Gardiner, ci viene detto tre sbarrette, stroke, riferito tre volte, ripetuto tre volte, è correlato al simbolo del plurale, determinativo della pluralità, e dice segue un ideogramma o un determinativo, in questo caso di genere, per mostrare che esso dovrebbe essere inteso per tre volte. E lo vediamo delle parole. Le tre sbarrette. Guarda caso, compaiono anche i granuli, ma guarda che combinazione. ecco ne tre qui. Questo è il simbolo di Wout e i tre granuli sono in fondo. Il determinativo è per ultimo, lo ribadisce il Gardiner. Abbiamo detto che c'è l'anatroccolo, ma manca un determinativo di genere. Quindi noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo lambicarci il cervello e vedere dal contesto di tutta la situazione proposta dal quadro e anche dai quadri vicini, se c'è un qualche cosa di correlabile con un'azione di purificazione in ambito liturgico rituale che stia la presenza dell'anatroccolo. E allora cosa facciamo? In questo senso dobbiamo guardare ciò che in realtà non è presente nel testo, ma dobbiamo andarlo a ricercare sul vocabolario e vedere se possiamo correlarlo a quello che invece è presente nel vocabolario, ma non c'è sul muro di Luxor. Questo è il Gardiner che ci dice che l'anatroccolo con la pallina, col simbolo di granulo, vuol dire pallina. E questo è l'egittologo innominabile che per tanto per cambiare, per pura combinazione ci dice le stesse cose, ma addirittura in forma un po' più ampia, perché ci ribadisce in varie forme, qui ce ne sono tre, ci dice granulo, goccia, pallina, perlina, che possono formare addirittura, quando sono tanti, una collana. Ecco, quindi vediamo che c'è la possibilità di granulo, ma la pallina bisogna mettercela. Questa è la valorizzazione. Se io avessi dovuto scrivere la frase detta dagli egittologi mediante cinque granuli, se io avessi dovuto scriverla nel Medioregno e nel Nuovo Regno e non nel predinastico tolemaico come siamo adesso, in cui si parla di la preposizione mediante, l'anatroccolo, simbolo fonetico di ta, il determinativo di genere, cioè un granulo, è il simbolo dei cinque al plurale. Così, scritto così, vuol dire mediante cinque granuli, non come è stato scritto in precedenza qui sopra. Anche perché, ma sono cinque questi granuli, perché è evidente che questa frase è correlata all'azione che fa lui di presentare questi vasetti. E questi vasetti, guarda caso, ripetizione ottimale di quello che c'è scritto, contengono dei granuli di dimensioni e qui è anche piacevole constatare che i granuli d'incenso sono passati 2300 anni, ma sono sempre delle stesse dimensioni perché questi sono i granuli d'incenso. Li contiamo? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ma guarda, sono 6 e non 5. E allora? I 5 granuli d'incenso mi sa che non hanno vita lunga. Ma questo invece deve essere correlata questa frase con quest'azione. Ecco invece quello che presumibilmente è contestualizzato dal lavoro che abbiamo fatto di verifica delle varie possibilità, contestualizzato dalle altre immagini, perché, ben inteso, quello che hanno fatto gli egitologi che non ci dicono è una valorizzazione da contesti dei quadri adiacenti, lavorando per esclusione. Guarda caso è uno dei tanti procedimenti adottati dall'egittologo innominabile desecrabile che è stato fatto diventare tale perché non segue il testo ma si inventa parte delle traduzioni. Guarda caso è una procedura parzialmente similare a quella che abbiamo incontrato adesso. Quindi è possibile. C'è anche una seconda possibilità che ho dovuto scartare, perché qui è chiaro che non essendo in possesso di una versione omogenea rispettosa delle regole egitologiche per la traduzione di questo, dobbiamo immaginare di poter considerare la preposizione M come correlata alla purificazione. E in quanto questo caso avrebbe il valore di una purificazione dentro, una purificazione interna. Il problema è che l'uso della preposizione in forma avverbiale, non dentro ma una preposizione che è dentro, quindi con un verbo essere inteso, è una situazione che ha da pochi riscontri. Allora dobbiamo ricorrere all'ultima possibilità di interpretazione del testo che abbiamo, dove l'errore dello scriba è posizionato male il simbolo della M che prima era messo qui e invece va messo qui. Manca il simbolo del granule e tutto il resto è perfetto. Con due sole intercalazioni abbiamo una verifica del testo, che a questo punto vuol dire o fare o lavoro di purificazione in numero di cinque esemplari, di cui questi sono quattro preparati per un'azione successiva e c'è quella che sta facendo in questo momento, con granuli in numero a specifico, non preciso, non determinato, perché li abbiamo contati, sono sei. Quindi vuol dire cinque lavori di purificazione effettuati mediante i granuli del paese del sud. Non è nettamente diverso, ma un pochino sì. Quindi concludendo questo tipo di analisi voglio significare che il lavoro degli egittologi è un lavoro estremamente difficile, estremamente complesso, perché non in tutte le circostanze abbiamo una piena valenza di rispetto dei valori lessicali che troviamo. Forse un pochino più di disponibilità e di essere meno arroccati su certe posizioni che non ammettono repliche potrebbe dare un maggiore valore di rispetto e di collaborazione reciproca. Se però noi ci avviamo in questo caso alla fase conclusiva, se noi guardiamo invece questa frase che non è stata tradotta, abbiamo detto all'inizio, forse per casualità o forse no, vediamo delle interessanti valutazioni. Abbiamo detto quante volte troviamo questa frase, qui ho messo sempre i punti interrogativi per far capire che manca un simbolo, ed era la frase che abbiamo visto in precedenza, il fluido o la protezione della lunga vita dietro di lui lo riende signore come il Diorà. Questa frase è, abbiamo visto, molto ma molto spesso presente. E allora come possiamo interfacciarla con un'altra azione molto rilevante e che spesso gli egittologi hanno difficoltà a inquadrare in un termine ben preciso, perché qui a questo punto bisogna dire che Mauro ha avuto un colpo di genio quando ha detto che c'è un approccio metodologico coinvolgendo altri tipi di categorie, in questo caso i medici, potremmo dire gli esperti di medicina orientale, gli esperti di medicina induista, perché alcuni aspetti che troviamo sui certi geroglifici inseriti in certi atteggiamenti un po' strani che adesso andremo a vedere, si possono interfacciare a pieno regime con delle collaborazioni e delle similitudini che troviamo in altri campi, in altri luoghi e in altri tempi della Terra. Questa immagine, in cui vediamo il ritratto del faraone Sesostri I del Medioregno, unisce due simboli che abbiamo trovato finora, di cui uno è quello che abbiamo visto finora tramite il dio Min con il fallo eretto da cui non esce nulla, con questa azione che il dio effettua sul faraone con un doppio utilizzo dell'ANC, della chiave di lunga vita, di cui abbiamo visto tanti esempi nel fluido o la protezione della lunga vita dietro di lui, signore o come il dio Ra. Questa è la cosiddetta posizione di riposo dell'ANC tenuta per l'occhiello. Questo è semplicemente il simbolo per far capire che o si tratta di un dio, questo è uno dei rari casi in cui in conseguenza del dono che gli fa la divinità con questa posizione, con questo atteggiamento che adesso andremo a investigare, che è diffusissimo. Questo trattamento dell'ANC in una posizione e con un andamento ben specifico comporta che lui sia attivato e quindi possa essere assimilato in tutto e per tutto alla divinità che di solito sono quelle che reggono l'ANC. Significativo è il fatto che venga la mano del faraone tenuta dalla divinità stessa. Potrebbe sembrare un atteggiamento di cordialità, di empatia, ma probabilmente, e questa è un'interessante ipotesi di lavoro, il contatto serviva per probabilmente allargare certi tipi di canali vibrazionali per meglio condividere e assimilare il lavoro fatto dall'ANC. Come viene preso l'ANC? Viene preso in questa posizione tra l'indice e il pollice dal lato lungo e posizionato dal basso verso l'alto con una angolazione tra i 15 e 20 gradi diretta in questa posizione verso gli occhi e verso la parte superiore. Tratto dalla tomba di Amenofi II vediamo si vede solo parte in cui c'è il profilo di Anubi che sta diciamo toccando la spalla sempre per assicurare un contatto come se fosse una compartecipazione, forse un effetto di scaricamento di energia, forse per un effetto di concentrazione di energia e di nuovo l'ANC in questa posizione diretta in questo ambito. Sempre tomba di Amenofi II questa volta è la deator, lo tiene per il polso quindi non solo per la mano, come dire noi sappiamo quanto importante sia il tunnel carpale come ricettacolo di tutti i nervi della mano e del braccio, il nervo radiale, il nervo mediano e il nervo urnare, tutti quelli che comandano la motricità e che secondo la medicina cinese hanno delle correlazioni che possono interfacciarsi anche con i chakra e di nuovo l'atteggiamento dell'ANC maneggiato sempre in questa postura diretto verso la testa. Tutmosi IV stesso tipo di trattamento fatto dalla deator e fatto da Anubi sempre con lo stesso andamento sempre con la stessa direzione in posizione centrale con un angolo di 15-20 gradi dal basso verso l'alto. Non poteva mancare Tutankhamon con la deator che gli fa analogamente il trattamento, Oremeb stesso tipo, il Diorus fa lo stesso tipo di trattamento e questa è molto bella perché questo è Seti I con il Diorus che gli fa ancora di più perché abbiamo visto in precedenza che o gli tiene la mano o gli mette una mano sulla spalla. Qui addirittura fa di più perché la mano sinistra viene messa dietro la nuca quasi a o fosse una specie di concentrazione per evitare che magari lui si spostasse per questo tipo di trattamento, per agevolare, fargli da schermo, o in un certo senso forse anche una possibilità di concentrazione e se noi vediamo questa posizione che vediamo è un Ankh decisamente atipico, ma Seti I era un faraone veramente speciale, lo vediamo dalla sua magnifica tomba. Qui vediamo la mano sinistra che effettua questa specie di protezione, di incrementatore di schermo e di concentrazione dell'energia. Questo è l'Ankh diretto sempre in questa posizione e queste due sbarrette che se non ingrandiamo ci sfugono sono due scettri Was. Lo scettro Was, genericamente interpretato come espressione di salute, corrisponde al senso di benessere di salute psicofisica. Quindi questo trattamento vuol dire che non solo gli dà la lunga vita, ma lo migliora anche dal punto di vista fisico e dal punto di vista psicologico. Non manca Ramses II, sempre con lo stesso andamento, eppure sua moglie, la regina Nefertari, dove vediamo di nuovo, in conseguenza di questo irraggiamento, il fluido della lunga vita dietro. Non tutta la frase, ma comunque abbastanza significativa. Questa è un'elaborazione che ho fatto cercando di portare che cosa è la sfera dell'encefalo con il lobo del cervelletto, la calotta cranico, il talamo e le varie strutture, sia dell'ipotalamo che del tronco encefalico, che cosa potrebbe essere il bersaglio di questo irradiamento fatto con l'anca tenuto in questa postura? Ebbene, questa cosa va a toccare la ghiandola pineale. La ghiandola pineale, in quanto produttrice di melatonina, era conosciuta già dagli antichi sia anche un po' ebrei, dovessi dire, perché ci sono dei riferimenti tardi nello Zoar che parlano dei granuli di qualche cosa che può sfucciare poi in rugiada. E la rugiada è un corrispettivo dell'iquorcefalo-rachidiano attivato a determinati tipi di livelli energetici. Ma l'irraggiamento determina la produzione, noi sappiamo, la ghiandola pineale per le discipline antiche, a parte la correlazione con il terzo occhio, a parte la correlazione che l'epifisi o ghiandola pineale ha con l'ipotalamo, perché riduce il senso della fame. E noi sappiamo, la fisiologia ce l'ha spiegato, una possibilità di ridurre il deterioramento e attivare il processo di anti-aging, di anti-invecchiamento dell'individuo in generale, dei parte dei cromosomi, è far sì che ci sia un, entro certi limiti ricordo che Mauro in questo senso aveva ridacchiato un po', quando gliel'avevo detto, una riduzione dell'apporto calorico. E la riduzione dell'apporto calorico viene interfacciata con un'attivuzione dell'ipotalamo sul senso della fame. Quindi noi vediamo che la melatonina, oltre che essere imbunomodulatore, essere come una situazione che migliora determinate prestazioni neurofisiologiche, che migliora la qualità del sistema immunitario, è un qualche cosa che potrebbe essere come ipotesi di lavoro l'interfacciamento di questa effettiva attività di attivazione fatta con l'ang. Non a caso noi abbiamo che, nel caso di Alessandro Magno, qui sotto, qui a questo livello, era girato dall'altra parte, c'è scritto la protezione. La protezione è a questo livello ed è sempre dietro, dove il tronco encefalico, la parte nobile in questo senso del cervello, parte poi il tronco encefalico e sempre nella parte posteriore. E guarda caso tutte le immagini che abbiamo fatto vedere quando citava il dio Min, o quando faceva vedere il caso di Alessandro Magno come faraone, il fluido della lunga vita, lo rende signore, dietro di lui, lo rende signore, come dirà, è sempre abbinato al termine haff, dietro di lui, è un qualche cosa che è qui, dove c'è il fluido, la magicità della lunga vita. Bene, adesso abbiamo ascoltato le spiegazioni, come sempre chirurgiche, estremamente perfette, del dottor Massimo Barbetta, che sono sempre affascinanti, soprattutto per la perfezione con cui le conduce, e adesso facciamo alcune riflessioni di carattere generale, che secondo me sono molto intriganti, perché ci aiutano a capire un sacco di cose. Quindi ripartiamo poi dalle immagini, ma facciamo delle riflessioni, ripeto, anche di carattere generale. Prima di passare alle riflessioni vorrei scomperare il campo da due banalità, sono due cose piccole, ma mi premono. La prima è questa. Siccome mi è stata attribuita l'interpretazione di questo segno qui come la raccolta del liquido spermatico, ora, se si va a vedere i filmati, nei quali quello, per esempio, dell'incontro col professor Odifreddi, dove io ho parlato della raccolta del liquido, mai e poi mai mi sono riferito a quel segno lì, perché per me era evidente che la raccolta del liquido spermatico si fa in questo recipiente che è posto proprio sull'organo sessuale. Anche perché mai e poi mai avrei potuto immaginare che gli egizi fossero così sproveduti da pensare di raccogliere il liquido spermatico con un vasetto piccolino appoggiato su un attrezzo messo ad alcune decine di centimetri dall'organo sessuale, da cui l'altro il liquido sperando di centrarlo nel vuoto, da cui il liquido spermatico scenderebbe tra l'altro uscendo da un punto non identificato. Quindi mai e poi mai mi sono riferito questo. Quindi se questa qui è una crepa nel muro o questa qui è qualcos'altro o è uno sfregio fatto dopo, è proprio una cosa che non mi riguarda perché non mi sono mai riferito a questo aspetto qui. Quindi semmai la raccolta del liquido spermatico avviene qui, come avviene oggi, quando si fa la raccolta con dei piccoli recipienti che vengono messi a diretto contatto con l'organo sessuale. Quindi se gli egizi lo facevano direi che è normale e buon senso pensare che lo facessero esattamente nello stesso modo. Un secondo equivoco che voglio sfatare è questo. Siccome io in una diapositiva avevo scritto il nome di Ashepsut perché intendevo parlare del Tempio di Luxor e di Karnak eccetera, allora mi è stato detto che Abilino non sa di che cosa parla perché Ashepsut è antecedente al Tempio di Luxor e quindi non è possibile collegarla. Ora, Università di Chicago dicono chiaramente che il Tempio di Luxor, perché di questo si parla, era uno dei centri religiosi più importanti, lì avvenivano delle processioni e molti re sono stati eletti, cioè re e faraoni insomma, sono stati eletti e incoronati lì tra di questi, tra gli altri, Ashepsut. Quindi voglio dire, quel egittofilo che ha detto Abilino non sa di che cosa parla quando collega Ashepsut col Tempio di Luxor, beh, non lo so, lo dico sorridendo, però dovrebbe scriverlo anche all'Università di Chicago che non sanno di che cosa parlano perché loro stessi dicono che Ashepsut è stata incoronata nel Tempio di Luxor. Quindi, insomma, voglio dire, prima di raccontare certe cose, soprattutto raccontarle con sarcasmo eccetera, sarebbe bene magari, non so, fare qualche verifica. Comunque, voglio dire, non sono queste le cose più importanti, adesso invece passiamo all'esame molto rapido, vedrete degli aspetti più importanti. E quindi riprendendo ciò che ha spiegato Massimo Barbetta, che ha letto i geroglifici, cosa che lui fa, io non faccio, ma quindi mi rifaccio a lui, gli dice che c'è scritto chiaramente che ciò che c'è lì, ciò che è rappresentato in quel muro a Luxor è fatto in modo da dare la lunga vita al faraone, ovviamente, e renderlo come il Signore Ra. Cioè, noi sappiamo che la massima aspirazione dei regnanti di allora era quella di avere la vita lunga come quella degli dèi. E ricordiamo, per esempio, la vicenda di Gilgamesh, che fa un lungo viaggio per andare nel posto dove veniva dispensata la lunga vita. Quindi questa era la, come dire, massima aspirazione. E qui ci viene detto con estrema concretezza, perché, guardate, questo è l'aspetto importante, che viene fatto per dare la lunga vita e rendere il faraone come il Signore Ra. E adesso andiamo avanti e vediamo un altro aspetto. Altro elemento di polemica è stata questa rappresentazione di questa immagine, sulla quale io continuo a rimanere della mia idea, cioè dell'idea che ho espresso la sera in cui l'ho proiettata al Salone del Libro. Gli egittologi e gli egittofili sono di altra idea, va benissimo, non c'è problema, rispettano la, come dire, interpretazione tradizionale, ma ciò che è fondamentale è che questa immagine qui viene intesa, in ogni caso, come l'immagine dell'atto della purificazione. Quindi siamo di fronte ad una purificazione. Ripeto, senza perdere un minuto di tempo a discutere se questa sia una cosa piuttosto che un'altra, piuttosto che una terza. Perché in questo caso faremmo come quelli che quando qualcuno indica la luna, guardano il dito. Ecco, no, noi guardiamo la luna. Allora, la luna è, su questo tutti siamo d'accordo, si tratta di un atto di purificazione. Nella iscrizione di prima abbiamo visto che si tratta di un atto di purificazione finalizzato a rendere la vita del faraone lunga come quella del dio Ra. Questo è importante. Terzo elemento lo vediamo qui, dove Massimo Barbetta ci ha spiegato nel video che avete appena visto l'errore commesso dagli egittologi nel tradurre questo geroglifico, cioè questo insieme di geroglifici. Perché gli egittologi dicono che qui c'è scritto che si parla di una purificazione fatta con cinque granuli e che questa purificazione coinvolge in un senso simbolico, in un senso quasi magico, in un senso quasi allegorico l'Egitto del Sud, il paese del Sud. Qui Massimo Barbetta ci ha spiegato che sono stati vittime di una svista colossale. Perché il reale significato di questa scritta è che si compie l'atto di purificazione con un numero imprecisato di grani, ma che è plurale, del paese del Sud. Non quindi una purificazione generica, simbolica sul paese del Sud, ma è un'escrizione molto concreta che ci dice che quei granuli, cioè quelle sostanze che vengono usate per fare la purificazione, provengono dal paese del Sud, che è una cosa, voi lo capite, completamente diversa. Cioè noi siamo di fronte ad una immagine e a delle iscrizioni che sono di una concretezza veramente affascinante e per certi aspetti disarmante. C'è una raccolta di liquido che viene fatta direttamente in un contenitore collegato direttamente all'organo sessuale del dio Min, non a quello lì sotto con quella striscia ondulata, ripeto, di cui non mi sono mai occupato, anche perché parte da un punto da cui il liquido spermatico non potrebbe uscire, quindi sarebbe ridicolo solo pensarlo. Quindi la raccolta del liquido spermatico, la purificazione che viene fatta con delle sostanze che provengono dal paese del Sud e le finalità della purificazione sono quelle di dare la lunga vita al faraone. Ora qui siamo di fronte, appunto, nella incertezza, ripeto, poi anche nella incertezza, anche se gli egittologi sono certi, ma va bene, non è un problema, della lettura di questa immagine qui, siamo di fronte comunque a degli elementi nei confronti dei quali quantomeno il dubbio è giustificato. Ma questo dubbio è giustificato non soltanto per noi moderni, perché, vedete, quando io assisto a queste cose mi viene in mente ciò che scrivevano gli antichi. E ve lo leggo, così almeno siamo tranquilli. Qui abbiamo Filoni di Biblos, che parla degli studi del sacerdote San Cuniaton, 1200 a.C. E questo sacerdote San Cuniaton dice che, imbattutosi in certi libri segreti che erano stati fino ad allora nascosti nei penetrali del tempio di Amon, cioè parliamo delle divinità egizie, si dedicò al loro studio per comprendere tutte quelle cose che non a tutti era dato conoscere. Alla fine riuscì a realizzare il suo progetto e tolse di mezzo i miti e le allegorie in cui erano stati avvolti i tempi primitivi. Ricordo che, secondo la traduzione degli egittologi, questa iscrizione rimanderebbe allegoricamente ad una purificazione che coinvolge genericamente il paese del sud. Chissà poi perché non la parte nord, ma comunque non ha importanza. Coinvolge genericamente il paese del sud allegoricamente. Massimo Barbetta ci ha spiegato che di tutt'altro si tratta. Quindi siamo esattamente in questo ambito qui. In seguito i sacerdoti che vissero dopo San Cugnaton, vollero nascondere nuovamente la verità e tornare al mito. Da allora ebbero origine i misteri. E la cosa interessante è perché poi prosegue e si dice che i nostri orecchi, stiamo parlando di duemila anni fa quando viene scritto questo, abituati fin dall'infanzia alle loro invenzioni e martellati ormai da tanti secoli da queste fantasie, custodiscono quasi come un deposito la materia favolosa trasmessa da queste favole, che essi hanno appreso, così come ho già detto all'inizio. Rafforzate dal tempo, queste invenzioni fantastiche sono diventate un patrimonio di cui assai difficilmente ci si può disfare, tanto che la verità, cioè la concretezza di quello che viene rappresentato e scritto in riferimento a questo, tanto che la verità sembra una fantasticheria, mentre i racconti contraffatti sembrano avere tutti i caratteri della verità. Guardate questo è straordinario, ma sapete perché è straordinario? Perché ancora una volta l'Università di Chicago, di cui poi troverete il riferimento qui sotto, dice che noi dobbiamo considerare la possibilità che gli stessi egiziani antichi abbiano perso il significato dei riti che si conducevano nel tempio di Luxor. Cioè gli stessi egiziani antichi non sapevano più che cosa in antichità si faceva nel tempio di Luxor. Eppure noi, mantenendo le stesse interpretazioni allegoriche, magari basate addirittura, se è vero ciò che dice il dottor Massimo Barbetta, su traduzioni sbagliate, noi continuiamo a mantenere in vita quelle allegorie. Quando siamo di fronte invece a racconti molto, molto concreti. Quindi se già gli egizi avevano perso, figuriamoci noi, tant'è, e proseguo sempre lo scritto, che dice che questa situazione può essere rimasta fino al giorno presente. Cioè ancora oggi ci possiamo trovare nella stessa difficoltà. Per cui cosa succede? Che quando si dice che di fronte a queste cose bisogna chiedere a degli egittologi, io dico va bene, certamente, in prima istanza chiediamo agli egittologi. Il problema è che se le risposte che ci danno gli egittologi non ci sembrano congruenti con ciò che vediamo e con ciò che leggiamo nelle traduzioni corrette, noi abbiamo non soltanto il diritto, ma abbiamo il dovere di chiedere ad altri. E siccome qui in questo caso siamo in presenza di purificazione di liquido spermatico, a chi dobbiamo chiedere se non a medici, genetisti, biologi, tecnici di laboratorio? Perché gli egittologi non studiano questa materia. Non perché siano ignoranti, ma perché studiano un'altra materia. Quindi noi abbiamo il diritto di chiedere ad altri quando le spiegazioni non ci convincono. È la stessa cosa che ho fatto con la Bibbia. Visto che le spiegazioni dei teologi in relazione al testo biblico non convincono, bisogna far intervenire altri ed è ciò che ho fatto in questi anni. Qui siamo di fronte ad una situazione simile. Situazione simile, tra l'altro, che presenta dei risvolti che sono straordinari. Perché io vi invito ad andare a leggere, per esempio, le traduzioni pubblicate dalla UTET di Torino, dei testi sumeri, quindi traduzioni accademiche, dove si racconta del prelievo e dell'utilizzo che si fa del liquido spermatico del dio Enchi. Quindi vuol dire che alcune migliaia di anni prima di Cristo già sapevano a che cosa serviva il liquido spermatico e che uso se ne poteva fare. Qui ci viene detto che serve per allungare la vita del faraone. Ma questa cosa qui lo sapete che si trova anche nella Bibbia? Adesso ve la faccio dire da un professore molto importante. Allora Massimo Barbetta, tra l'altro, ha rilevato che in queste iscrizioni c'è innanzitutto un errore dello scriva, su cui si è innestato poi l'errore dei traduttori moderni. Quindi siamo di fronte veramente ad una eventuale allegoria costruita su almeno due livelli di errori. Voi capite quale sia il livello di verità possibile che si può ricavare da una situazione del genere? Quanto meno esprimere il dubbio. Esprimere delle domande è lecito, anzi dico di più, è doveroso. Dico di più, uno studioso serio dovrebbe essere contento di fronte alle domande. Contento, perché sono le domande quelle che consentono di aprire più via. Ma torniamo alla Bibbia. Ho detto che qui c'era scritto che questa operazione veniva fatta per allungare la vita del faraone. Nel capitolo 6 della Genesi, che vi invito ad andare a leggere, ad un certo punto nei versetti 2 e 3 c'è scritto che l'Elohim di nome Yahweh, perché sappiamo che la Bibbia da un certo punto in avanti ha inserito Yahweh ovunque quando hanno deciso di farlo diventare il Dio unico, dice io smetterò di contendere con l'Adam, in fondo lui è solo carne, la sua vita sarà di 120 anni. E da sempre ci si chiede cosa vuol dire io smetterò di contendere, per cui la sua vita sarà di 120 anni. Cosa vuol dire contendere? Il professor Kamal Salibi, che era docente all'Università Americana di Beirut, fondatore e presidente della Commissione per i rapporti interreligiosi, profondo conoscitore e traduttore delle antiche lingue medio orientali, compreso l'ebraico, quindi compreso traduttore della Bibbia, dice in quei versetti c'è una traduzione sbagliata, e guarda caso mi fa venire in mente questo, ma fa niente, perché dice che lì non c'è scritto io non contenderò più con l'Adam, ma c'è scritto io non arricchirò più l'Adam con il mio liquido spermatico, la sua vita sarà di 120 anni. Cioè nella Bibbia, capitolo 6 della Genesi, secondo il professor Kamal Salibi, c'è scritto che gli Elohim, cioè il corrispettivo israelitico delle divinità egizie, dicono noi non useremo più il nostro liquido spermatico per allungare la vita degli Adamiti, sapete che gli Adamiti sono, lo spiego da sempre, sono quella razza speciale che gli Elohim si sono fabbricata per mettere dentro il loro Gan Eden, e dicono quindi noi non allungheremo più la vita con il nostro liquido spermatico e la loro vita sarà di 120 anni, cioè non diamo più l'apporto e la loro vita si riduce. Qui abbiamo letto prima che con questo apporto la vita del faraone si allunga, questo è stupefacente, da pelle d'oca ci dicono esattamente la stessa cosa, cioè l'utilizzo che si faceva del liquido spermatico. E qui siamo di fronte ad un racconto che ci dice anche che questa purificazione avveniva con delle sostanze che provenivano dal sud dell'Egitto, non che magicamente si operava una purificazione sul sud dell'Egitto. Quindi siamo ancora una volta di fronte ad una concretezza straordinaria ed è per questo che io dico. Ascoltiamo, anche perché lo troviamo scritto da tutte le parti nei loro libri in internet, ascoltiamo che cosa hanno da dire gli egittologi, ma ci mancherebbe. Ascoltiamo pure che cosa hanno da dire gli egittofili che sono legati a quegli egittologi, ma ci mancherebbe. Però nel momento in cui queste cose non ci convincono, ascoltiamo anche altri, perché le risposte ci possono arrivare da altri. Questo non vale soltanto per questo muro, per i quali sentiremo medici, genetisti, eccetera, ma vale per altre illustrazioni, per altri muri, diciamo così, egiziani, dove sentiremo fisici, dove sentiremo ingegneri, sentiremo ingegneri elettronici, perché è bene avere altre risposte. È fondamentale avere altre risposte. E chiudo con una vicenda. Invito tutti a ripensare alla vicenda di Heinrich Schliemann, quel commerciante tedesco che nel 1800, guardate bene, lui non aveva neanche finito gli studi di ginnasio, ha pensato che l'Iliade, in particolare, insomma comunque i poemi omerici, contenessero un fondo di verità. Quando l'ha detto? E quando ha detto, beh, io intanto avrei intenzione di andare a scavare là per vedere se effettivamente ci sono queste cose? Bene, tutta la comunità accademica lo ha ricoperto di una montagna di insulti, contumeglie, di tuperi, ironia, sarcasmo, derisioni, dissacrazione, di tutto gli hanno detto. Gli hanno detto vieni da noi, ma cosa vuoi saperne tu? Noi possediamo la verità. È un po' come è stato scritto a meno, Biglino se vuoi sapere queste cose chiede agli egittologi. Certo, certo, io so cosa dicono gli egittologi, ma siccome non mi convince chiedo anche ad altri ed è non solo un mio diritto, un mio dovere. Quindi ricordiamoci di Schliemann, perché Schliemann per fortuna non si è fatto intimidire da questa montagna di insulti ed è andato avanti per fortuna, per fortuna per tutti noi, ma innanzitutto per fortuna di quegli accademici che senza le sue scoperte da dilettante ancora non saprebbero nulla di ciò che c'è nella collina in Turchia e saprebbero molto meno, magari poi qualcuno l'avrebbe scoperto dopo, chissà ma la storia non è fatta di sé, della civiltà micenea. Pensiamo a tutto ciò che ha tirato fuori quell'archeologo dilettante contro il quale tutti si sono scagliati. Allora io voglio dire, visto che siamo in presenza di incertezze, visto che siamo in presenza di possibili errori fatti dallo stesso scriva, visto che siamo in presenza di possibili errori per carità fatti dagli egittologi che hanno tradotto, visto che comunque nel complesso siamo in presenza con le traduzioni ipoteticamente corrette di un racconto molto concreto, cioè di una purificazione fatta con delle sostanze che ci si dice arrivano dal sud del paese, di una purificazione che ha il compito di allungare la vita del faraone. Visto che nella Bibbia ci viene detto che il liquido spermatico degli Elohim allungava la vita degli adamiti, quindi che tutti ci raccontano la stessa storia, ma non vale la pena di farsi delle altre domande? Non vale la pena veramente di porsi dei dubbi? Allora io dico che aprire la mente, aprire la via a possibilità diverse è comunque sempre un bene per tutti. Grazie di aver ascoltato queste riflessioni di Massimo prima e mie adesso e un saluto.